Musica Ciao Cioè, far l'intervista adesso è veramente dura, eh? Comunque, dopo lo scoppio che ho appena preso Allora, dimmi subito nome e cognome Ghisoni Mauro Hai uno circolo di appartenenza oppure una poker non preferita? No, sono un pro di Big Poker, nuovo pro di Big Poker, sono nero, sono appena uscito KK 10-10 con 10 al flop Dai, raccontami la mano, come si è svolta No, niente, lui apre 3.500, rirei 7.500, lui pusha per 50.000, KK non si folda, sono davanti, 10, torneo finito Quindi dalle tue parole, KK sono carte che non folderai mai? No, no, KK non si foldano chi vuol giocare per vincere, assolutamente Sono contento del terzo posto di ieri, vabbè, non si può sempre vincere, perciò vediamo domani Quindi tu sei un affezionato a questi tornei, pensi di farne altri? Da quest'anno sono pro di Big, farò tanti tornei, spero di fare anche dei risultati, è una nuova esperienza, anche se giocavo già da prima Per adesso tutto bene, nonostante che adesso sia un po' nervoso Dai, allora, mi vuoi raccontare se di solito al tavolo hai qualche portafortuna? No, portafortuna particolari no, la mia mano è KJ, oggi non l'ho mai vista, perciò Quindi non era proprio la giornata fortunata? No, vabbè, fino a cinque minuti fa sembrava una buona giornata, adesso è pessima, ma va bene lo stesso Hai qualcuno a casa che vuoi salutare, che fa il tifo per te magari? No, no, solo mio figlio, non guarda la televisione del poker Magari lo salutiamo su YouTube, magari ci smanetta un po' Allora, ciao Leo Ciao Leo, e ciao anche a te, grazie Ok, grazie a te, ciao ciao